Sto corso, ma vuoi essere col tasso un po' più piccolo Sto corso, ma vuoi essere col tasso un po' più piccolo Cansoni da un'osteria E voi avete parlato perché abbiamo parlato? Una volta che ho parlato, dicevo al scuolo nella casa dove stava cantando mio papà Che cosa ho parlato? A questo? Il maestro? O che cazzo? Due. Pasquale, alla Cusetta, mi dava Varcareni E meante E lui, con Chitarino... Leante al caret, su la sattata a me, in terezza caccia se la rete la sentisi è. Hai capito? Hai mantenuto uno spirito incredibile. Sì, anche un po' di tonalità, un po' di memoria, ma la dì. No, 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 c'è un'attività di fare qualsiasi cosa. Comunque ci incontriamo un po', perché è un po' che abbiamo visto tutto. Se vuoi di Dio, che si può anche non dire. Siamo un mitione, si nasce, si muore.